Musica Musica Scenderti come questo aiutato Grazie Giulio Danella Danella Giulio Abbiamo la musica con noi Come mi faccio trovare C'è abbiamo trovato Poi canale della giu Lo sai Sono monti cari Salute a Ubertina, Carolina e Stefanita, Claudio. Mi sono andato a me, è il campero che mi sono andato a me. C'è una settimana comunicata a Venezia, c'è il carnevalo e il buon votare. Il 2 maggio è diventata una maschera in piccola del carnevalo di Russia. Pensa a te, il regno della sorte è un gran schermo. Mi parli di casa a noi. Per cui sarò molto tardi, però se non qua sarò molto tardi sarei qua. E comunque virtualmente, spiritualmente, sono qua! Bravo! No, 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 non è l'ultimo. No, è l'ultimo. Sei sempre splendido, Maurice. Grazie Aizia, le ferie di Bigalto erano qui lunedì di sera. gioco piano di Giussi. Apertura Magic Monday. E chiusura fuori di Bigalto. L'ultimo disco di Matteo Gariselli e Marco Paggioli. Bravo! Grazie a tutti! No! Chei a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Ok?